ciao ciao amici benvenuti o bentornati qua sul mio canale sono il carletto se non avete fatto ancora iscrivetevi al canale mettete questi benedetti like ai video ma soprattutto scrivetemi cosa vorreste vedere e se avete gli articoli nei commenti un po tutto insomma oggi andiamo a vedere dal sollevante l'uscita di futur quest ragazzi collaborazione con matteo della testa del nostro jig indie cast in metallo pitturata a mano però che fregatura ragazzi nel senso che come pezzo da collezione lo sappiamo la futur quest il prezzo si impenna sale bella e bella e bella però ragazzi io non mi immaginavo che era veramente così piccola l'andremo a paragonare con praticamente quella dell'hl pro che costa cinque volte meno è vero non è indie cast non ha questo bigliettino e tu che puoi diventare jig però è anche fatta bene e mi è rimasto un po lavare in bocca perché il pezzo è bello lui la testa come scatta è veramente bella però non è giusto un prezzo così elevato quindi andiamola a vedere bene 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 nel dettaglio vi faccio vedere tutte la paragoniamo con quella di hl pro amici 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 allora il packaging è bello guardate che bella che è la parte superiore vedete futur quest questa è la parte frontale questa è la parte dietro vedete qua c'è mt matteo toni selection ideato da matteo che mette anche per noi italiani questo bigliettino all'interno carino tu che puoi diventare jig bigliettino da visita che dire poi andiamo a vedere allora la collanina carina 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 adesso andiamo a levarla per vedere poi come effettivamente questa testa allora è bella pesante effettivamente guardate che scatto lo scatto la pittura è fatta bene è tutta in metallo guardate che bella la parte sotto vedete fatta veramente devo dire la verità veramente veramente bella la fregatura ragazzi è che anche guardate la catena che passa all'interno qua fatto in questo modo qua è stata una bella idea questa di futur quest di matteo e devo dirlo la verità lo scatto è molto molto bello è in die casta e metallo quindi è molto molto bella è molto bella la fregatura che pensavo fosse più grande perché vedete questa qua è quella della hl pro un pochettino ma di poco più piccola vedete pochettino più piccola ovviamente lo sculte non è secondo me è bello come questo di futuro questo vedete questo di futuro questo è proprio quello secondo me del nostro gig però il discorso è che questa di hl pro comunque sia non è brutta vedete ma costa cinque volte meno quattro volte meno quindi l'unica cosa è quella di vedete ovviamente materiale una è pvc quella di future quest è metallo e ovviamente molto devo dire la verità molto molto più belle veramente belle belle l'idea così ma più che indossarla secondo me come ve la farò vedere girare adesso è bella da tenere i metri racconi il bigliettino da visita quindi la fregatura in sé soltanto nel fatto delle dimensioni me l'aspettavo più grossa ma come testa è stupenda eccola qua amici eccola qua devo dire la verità guardate che bella adesso andiamo a zoomare guardate che bella l'idea di matteo fondamentalmente ci sta la testa è molto bella il bigliettino vedete da tenere così in vetrina a fianco al nostro sciogochine veramente bella la fregatura secondo me sta nel fatto è caduto il bigliettino da visita sta nel fatto che poi fondamentalmente è piccolina è piccolina era anche se magari non era scala 1 a 1 anche se devo dire la verità quando vediamo il cartone animato di hiroshi del nostro jig è molto più grande secondo me la testa rispetto questa qua quando si vedeva la promo della della testa in uscita la immaginavo molto più grande però come potete vedere come qualità è superba mi piace anche il fatto che comunque per creare il ciondolo hanno fatto quei due buchi dietro hanno messo il solito port del gancio rotondo da porta chiavi e quindi anche quello è sinonimo di qualità però devo dire devo dire la verità ci sono rimasto male non per la bellezza della testa in sé dello scarte e del materiale della pittura che sono tutti secondo me eccezionali per la dimensione per la dimensione perché me l'aspettavo molto più grossa visto il prezzo quando andiamo a fermare perché secondo me è inutile vederla qua girare visto il prezzo ragazzi così alto me l'aspettavo però guardate che bella me l'aspettavo che dire più grande perché comunque costa lo ribadisco è vero non è lo stesso materiale questa qua è bella e da collezione mentre come potete vedere questo qua paragonato è un giocattolino perché c'è anche l'aggancio vedete nel portachiavi sopra quindi come fattura bravo matteo però in questo caso essendo secondo me così piccola doveva costare sicuramente sicuramente meno quindi dai andrei a concludere questa recensione ecco il pendolino ecco il pendolino sono bella sono bella ma costo troppo questo in sintesi ragazzi è la conclusione di questa recensione della testa del nostro gig robot d'acciaio prodotto da future quest sotto la supervisione mt di matteo toni quindi che dire lei è veramente bella come qualità è tutta in die cast è pitturata guardate veramente veramente bene niente niente difetti veramente bella 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 è un pochettino più grande rispetto a questa qua di hl pro però che dire costicchia veramente tanto per la dimensione del della testa in sé quindi l'unica critica e il fatto che un po una fregatura è proprio questa ce la dovevi fare identica uguale stesse materiale stesso modo di colorazione tutto uguale ma secondo me più grossa allora sì che aveva il senso pagarla una cifra secondo me così alta per una testolina così piccina ai 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 che dire la consiglio la consiglia collezionista come me pazzi soprattutto chiama giga perché è veramente veramente bella però posso dire che sono tanti soldini e se avete gli sciogocchini non siete fanatici di giro come me potete anche non prenderla io da collezionista l'ho presa salirà di prezzo perché sono pochissimi pezzi quindi che dire secondo me salirà di prezzo ma devo essere sincero alla cifra che costa è veramente po tanto io purtroppo le recensioni le faccio bene dico quello che penso ed è bella ma doveva costare veramente molto molto meno secondo me o costare così ma farcela più grande saluto da carletto spero che questa recensione vi sia servita vi sia piaciuta scrivete nei commenti cosa vorreste vedere se ce l'avete anche voi che cosa ne pensate mettete questi benedetti pollicioni iscrivetevi se non l'avete fatto ancora ciao 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 ciao